Siamo a Sanremo, Radio Bruno La donna più vittoriosa della storia del Festival di Sanremo. Non posso che presentarla così. Iva Zanichi, buongiorno, benvenuta nel nostro salottino virtuale. Grazie, grazie cara, che bella presentazione. Buongiorno a te. Meriti questo, è decisamente di meglio. Io tra l'altro ti vedo incredibilmente diva, l'occhiale da sole come giusto al mattino, tutta di rosso vestita. Non mi sono truttata. Mi piace, mi piace, così fra ragazze. Facciamo una chiacchierata fra ragazze. Questa sera finalmente sentiremo la tua canzone. Io non l'ho sentita, ma la immagino super passionale, un po' come sei tu, anche con le tantissime dichiarazioni che hai lanciato nel corso di questi giorni, di queste settimane. Ce ne parli un po', ce la descrivi a parole? Sì, guarda, l'ho scritto anche delle cose, io poi mi fresco a qualche cosa, tutta. Non è assolutamente una canzone a sfondo erotico, no, è una canzone d'amore, è una poesia d'amore. È una poesia che si rivolge al proprio innamorato, o al proprio innamorato, l'innamorato. È tutto tondo, dice delle parole molto belle, molto romantiche, che ognuno di noi amerebbe sentire dal proprio compagno, non c'è quell'erotismo che hanno voluto, ma sì, forse perché mi sono lasciata andare a dire delle, così qualche battuta sciocca, perché sai, io non mi srattengo mai, dico sempre tutto quello che penso. Però l'ascolterai, questa sera l'ascolterai, poi domani ci sentiamo, mi dirai se è una canzone d'amore o se si parla di erotismo. No, signore. Ok, basta, volevo precisare questo. Che poi non ci sarebbe niente di male a parlare di erotismo, ma non lo è, per cui è giusto mettere le cose al loro posto. Iva, ti dobbiamo comunque ringraziare per il fatto che tu dici quello che pensi, che ti passa per la testa e non metti grandi filtri, perché sei riuscita comunque a toccare dei temi che secondo me sono molto interessanti. Cioè, al di là del discorso erotismo, sessualità, eccetera, però lo possiamo dire, dopo una certa età c'è un po' un tabù, no? Sì, è come se, non so, si arrivasse a 60 anni e poi, niente, bisogna smettere di essere passionali, di fare l'amore, e non bisogna parlarne, non bisogna dirlo perché, non so, non lo so perché in realtà. Quindi grazie perché c'è una voce, comunque autorevole, cioè che arriva da una signora della musica, da una signora della televisione, che ha detto che è normale continuare ad amarsi anche con il corpo, anche se uno non ha più 60 anni o 40 o 20, che magari cambiano i modi, quindi secondo me continua a dire sempre quello che pensi. Sì, sì. Tra l'altro, invece, rimaniamo, parliamo di festival, mi ha fatto un po' ridere, divertire, comunque il fatto, ho letto che tu volevi presentarti sul palco con una mese bella giovanile, una minigonna addirittura, e tua figlia ti ha detto no, no, mamma, per favore, non farlo. È vero o è una diceria? No, no, l'ho detto, l'ho detto. Io ho detto, potrei presentarmi a Sanremo con la minigonna, perché le gambe, insomma, si mantengono giovani. Ma io, insomma, scherzavo. Mia figlia mi ha preso sul serio, mi ha detto, tu ti leggo a letto, tu non esci di casa. Ho detto, ma amore, scherzavo. Invece ho fatto un'altra scommetta, questa la manterrò. Ma dato che è talmente improbabile, che allora sono certa che non avverrà. Ho detto, casomai dovessi vincere il festival di Sanremo, il giorno dopo, che bisogna andare tutti a domenica in, io mi presenterò in costume da bagno, o bikini, perché potrei mettere anche il bikini. Hai capito? Sì, sì, assolutamente. Questo giurello lo manterrò, eh? Noi... Probabilissimo, va bene. Noi di Radio 1... Se volete vedermi in bikini, votatevi, che vi devo dire. Ragazzi, è meraviglioso, e vi piace tantissimo questa cosa. Poi magari, sempre in un'altra sede, mi spieghi come si fa a mantenere delle gambe belle, che potrebbe interessare, credo, non solo a me come donna, ma anche a tantissime altre, perché ci sarà forse un trucco, magari la fortuna di essere così. Tra l'altro, parlando di famiglia, ho visto, insomma, ce li hai un po' tutti con te a Sanremo, o meglio, c'è tua figlia, giusto, e tua nipote. Ho visto una foto bellissima. Siete due gocce d'acqua? Sì, assomigliamo tutti e tre. Mia figlia e la mia discografica, perché da qualche mese lei ha questa etichetta è che ripercorre un po' la tradizione familiare, perché suo nonno e suo padre, suo nonno aveva fondato la Rifi Records, che non esiste più, ma, insomma, era stato un uomo molto importante, aveva avuto nella sala della casa discografica, a Mina, aveva distribuito anche Celentano, in Pausto Leali, tutto quello di Aki ed Ebro, i giganti, il mio repertorio, tutto, e loro improvvisamente hanno detto mamma, va bene, facciamolo, mi ha aperto una piccola etichetta e adesso si diverte, lo fa con molta serietà. Poi c'ho anche mia nipote, che anche lei vorrebbe, forse, non lo so, è un piccolo esperimento, ha inciso una canzone molto carina per l'estate, vediamo quello che potrà succedere. Comunque frequenta l'università, che è quel che conta. Continuare gli studi, poi per puro divertimento, se le cose potranno, se le potrà piacere, e potrà anche andare avanti, perché no, ognuno deve proseguire i propri sogni. Io non ci metto lingua, come si suol dire, l'arancia, va bene. Mi piace questo clan di donne, una sorta di, insomma, tre generazioni, comunque ognuna nel suo mondo, però tutte evocate un po' allo spettacolo, in un modo o in un altro, mi piace molto. Ti chiedo una cosa, questa volta però parlo, neanche tanto con Iva, che è in concorso al Festival di Sanremo, ma più con Iva, il volto della televisione, Iva che di Sanremo ne ha fatti, ne ha vinti, con parte della storia della musica italiana. L'hai visto ieri sera? Ce lo fai un commento? Sì, sì, sì. L'ho visto tutto, e ti devo dire che a me è piaciuto moltissimo. Io adoro Fiorello, e assieme, loro due, sono una coppia formidabile, davvero. giocano, perché è importante che un attore abbia una spalla, ma che la spalla sia anche attore, che ci possano, bravissimi, è stato un momento esilarante, Fiorello ha superato se stesso. Benissimo. Per venire i cantanti, li ho ascoltati tutti, alcuni erano molto emozionati, hanno forse reso meno che in prova, ma al di sopra di tutti, per intonazione, per perfezione dell'esecuzione, e la canzone, per me, è Mahmood Blanco, stati veramente formidabili. Ma oserei dire, mi ha divertito moltissimo, Randy, perché è divertente, lui poi è un uomo di spettacolo, sa prendere, sa gestire. Ranieri ha una canzone molto importante, Ranieri l'ho sentito in prova, era forse anche meglio ha cantato in prova, forse era un po' emozionato, però insomma, è gente di grande, grande elevatura, che tratta a cavare sempre. È stato un bel festival, ci sono belle canzoni, che verranno fuori, sono molto carine, che quelle di ericera, davvero, molto, molto, sei giovani. Arriviamo a te, almeno qualche parola, su quello che vedremo, se puoi anticiparcelo, sul palco dell'Ariston, ma venerdì, nella serata delle cover, dove tu, se ho letto bene, farai un omaggio a Milva, con canzone. Sì, venerdì sì, invece questa sera, io canterò, lo sai, Voglio amarti, una canzone, un po' classica, arrangiata divinamente, da Celso Valli, che è uno dei grandi arrangiatori, che abbiamo, io mi auguro, spero che piaccia, è una canzone, come si scolgire, che può durare nel tempo, magari tra dieci anni, la canteranno ancora, questo è molto bello. Poi la serata delle cover, sì certo, io dedico questa canzone a Milva, perché la reputo, è una delle più grandi cantanti, artisti che l'Italia abbia mai avuto, lei ha avuto successo in tutto il mondo, e gliela dedico con tutto il cuore, era la cantante preferita da mia madre, ho scelto la canzone, con la quale lei è arrivata terza, al festival di San Revo, nel 78, che è una bellissima canzone di Don Bacchi, che si chiama appunto la canzone. Grazie mille Iva, grazie per essere stata con noi, grazie per il tuo entusiasmo, grazie per le tue parole, e in bocca al lupo, per questa sera. Un bacio. Un bacio grandissimo. Ciao, grazie, ciao cara, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.